Ragazzi siamo qui, c'è il lino della Champions, live reaction, Milan Newcastle, il ritorno di tonalari a San Siro The Champions Dai! Dai dai dai! Mamma mia, Popega! Bravo! Dai Leao! Cross! Dai! Ciucu! Ciucu! Cross! Poppa coi pugni! Dai! Dai! Mamma mia, Giru! Angolo! E Giru carica la curva! Dai! Draghi! Bello! Mamma mia, bello! Crunic! Angolo! Angolo! Oh! Teo! Raffa, ma che cazzo fai? Raffa, ma che cazzo fai? Grande! Dai! Cazzo fai! Ehi! Ehi! Io! No! No! Angolo io non ci credo Io non ci credo Leao Ha dribbato chiunque Poi ha colpito per terra Io l'ho detto Bisogna essere cinici Non puoi Perché fai un dribbling più tira Finito il secondo tempo 0-0 Tante occasioni ragazzi Leao mi fa innervosire Perché vedo un po' di pigrizia Per esempio mi ha fatto incazzare Quando ha tentato di segnare di tacco Tira subito e basta E rischiamo ragazzi Rischiamo che ci prendano Al primo tiro loro Goal Dobbiamo essere cinici Inizia il secondo tempo ragazzi Dobbiamo sbloccarla Non possiamo continuare a sprecare Occasioni su occasioni Entra Pulisic Al posto di Ciunqueze Entra Reinders Al posto di Pobeka Dai ragazzi Dobbiamo segnare Dobbiamo sbloccarla Mi sta salendo l'ansia Dovevamo essere in vantaggio del primo tempo Invece non avevo sfruttato l'occasione Dai 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 centrale Il Papa Il Papa l'ha bloccato Sai perché il Papa Perché Pop è il cognome Pop mi dice Papa Dai Dai veloci Noo Mamma mia Applausi per tonali Bellissimo Un saluto dello stadio L'Expuglio Noo Noo Leo 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 Si è fatto male anche Guarda Cadendo Cadendo Vediamo Noo Mamma mia Occasioni Dai ragazzi Musa Vai Musa Dai Noo Dai Noo Non ci credo Non ci credo Come l'ha saltato Musa Con l'elastico così Con l'elastico così Musa Musa Poi sciù E poi è arrivato Teo Ma non arriva in tempo Mamma mia Dai Noo 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 Come problemi per me Nonna Come problemi per me Mignanna Noo 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 Mignanna Noo Lascia il campo Mignanna Noo Noo Sì Sto prendendo Sportiello Noo 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 Entra a spurtiarlo Ma va? Ma va? È da mezz'ora che lo dico Dai Angolo Dai 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 Sarebbe importantissimo adesso Sfruttare i caccia di piazzate Va a saltare Tomori Va a saltare Ciao Bocchio a Giroud Bocchio a Krudic Che può tagliare sul primo palo Il pericoloso è il tiro Hernandez Che parte da fuori Valla verso De Hernandez La controllata È riuscita a contenerla proprio Albert Barnes Impedendo così il tiro Rainers per Florezzi Chiede palla a Pulisic Florezzi l'ha visto Passa però da Figaglio Tomori Che era proprio di passaggio L'intornato indietro E poi Rainers Cerca la conclusione Ma da lì non è facile E non è capito Grandissima risposta di Sportiello Gio Porn Gio Porn Cioè a 30 secondi della fine Sportiello Paratona E' finita E' finita E' finita